Carl Magnus Granat verrà qui. Lui è una leggenda. Si, volevi. Un tre, un tre, madame Messier. Secondo lei quanto potrebbe valere? 300 corone. Per un vero Picasso. Questo non è un Picasso, è un Pete in caso. Maya, ci sono già stati diversi furti a queste aste. L'ombra dell'arte è specializzata in furti di oggetti antichi. Qual è il legame fra tutti questi furti? Hanno rubato il dipinto di Crystal Lynn. Sali solo? Ha niente da dire. Al momento non so cosa dire. Jerry e Maya mi aiutano spesso qui a Wallaby. Davvero? Dei bambini? Se lei fossi là, che cosa ruberebbe dopo? Forse l'ho trovata. L'abbiamo in pugno. Dobbiamo prenderla stamorda. L'abbiamo in pugno. Ciao! Grazie.